Ciao a tutti, in questo breve tutorial vogliamo firmare un contratto, cioè apporre la nostra firma su un pdf Il pdf immaginiamo che ci venga inviato per email e ci viene richiesto di controfirmarlo e rinviarlo Cosa dobbiamo fare? Apriamo il pdf, andiamo nella zona dove dobbiamo apporre la firma Clicchiamo nella barra di strumenti in questa iconcina di toolbox e poi nella signature Possiamo sia firmare col trackpad o con la fotocamera Clicchiamo sulla fotocamera e inquadriamo una firma che abbiamo scritto su un foglio di carta E attendiamo che la fotocamera riconosca la firma Una volta che viene riconosciuta possiamo cliccare su fine e viene salvato il modello della firma Clicchiamo sulla firma stessa, la ridimensioniamo quanto ci occorre e la trasciniamo nell'apposito spazio della firma A questo punto non ci resta che salvare il nostro pdf Grazie Grazie.